Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. È scomparso il celebre cantautore italiano, un artista che ha brillato sul palco del Festival di Sanremo. Un'icona della musica partenopea, le sue melodie risuonavano in tutta Italia, ma anche oltre i confini nazionali. Era il protagonista indiscusso del palcoscenico di Sanremo, e la sua voce portava con sé il calore dell'estate grazie a un singolo da lui lanciato. La sua voce si è silenziata all'età di 83 anni, due mesi e mezzo fa. Ma nonostante l'età, il suo umorismo, la sua ironia e il suo spirito giovane erano sempre vivi e palpabili. E chi era costui? Parliamo del talentuoso Peppino Gagliardi, un nome che potrebbe essere sconosciuto alle nuove generazioni. La sua città adottiva, Roma, è diventata il suo ultimo rifugio, ma il suo percorso artistico ebbe inizio nel lontano 1963, quando scrisse la celebre canzone «Tiamo e ti amerò», cominciando così a conquistare i cuori dei suoi concittadini napoletani. Con il passare del tempo, il suo repertorio si arricchì di ulteriori trionfi, e le sue hit divennero iconiche. Nel 1968, le sue note facevano parte della colonna sonora del film «Profumo di donna», siglando un altro successo nella sua splendida carriera. Grazie per la visione e al prossimo video. Ehi, non mancare!